buongiorno artisti oggi parleremo di propolis di come utilizzarlo nell'orto la prima sigla eccoci qui la propolis che vi sto proponendo è un prodotto della bioki ho già recensito in un altro video è un'ottima azienda come vi dicevo è un prodotto biologico ed ha un effetto corroborante rinvigorente viene utilizzato prevalentemente per due scopi il primo come protettore dagli attacchi degli insetti e secondo per difendere la pianta dagli attacchi fungivi allora c'è un misurino nella scatola graduato e per quanto riguarda l'utilizzo vediamo un attimo allora le dosi sono non so se si vede eccole qua prefioritura 5 ml per litro di acqua post fioritura 4 ml e dopo potatura 6 ml quindi può essere utilizzato sia sulla pianta integra sia sulle parti potate affinché vengano protette e disinfettate che è uno dei casi di problemi che si possono determinare dopo la potatura appunto quello degli attacchi fungivi ma anche attacchi di insetti che passano dalle ferite e intaccano e intaccano la pianta bene utilizzerò questo spruzzatore e vado a trattare un po di piante ci vediamo dopo inizio a trattare questi broccoletti che vengono attaccati da qualche lumachina proviamo questa propolis allora come dicevo è un prodotto che protegge la pianta ed è un corroborante quindi permette alla pianta di di sfruttare al meglio le proprie risorse tipo un integratore vitamino per le persone per intenderci il trattamento va fatto una volta una volta a settimana o quando si effettuano dei tagli o delle potature se si vogliono disinfettare appunto i rami tagliati partiamo anche un po le fragole che sono attaccate come si vede dalle foglie da un po di malattie fungine quest'anno alcune piante di fragole mi hanno dato veramente problemi tra erbacce caldo eccessivo infatti abbonderò di propolis sperando che il prossimo anno si riprendano alla grande quindi come vi dicevo il trattamento va fatto una volta ogni settimana vado a trattare anche piante piante da fiore come questa chilopsis anche questa è stata attaccata da qualche malattia fungine sulle foglie vi vado a trattare il mio olivo avete visto il video sul trattamento a base di concime algantis questo olivo non è messo bene questi trattamenti fanno fanno più che il loro dovere infatti si sta riprendendo alla grande dal punto di vista meccanico la propolis funziona come una barriera infatti il prodotto una volta asciugato lascerà una superficie cerosa che la rende più resistente gli attacchi come dicevo di funghi e parassiti il nostro canale è un po' di più bene ho finito il trattamento ho passato la propolis su tutte le piante che mi interessavano e l'ho usato non soltanto sulle piante da frutto gli ortaggi ma anche su piante fiorite e piante ornamentali infatti come vedete qui è utilizzabile a 360 gradi e su tutte le tipologie di piante alberi arbusti frutti e fiori allora devo dire che sono molto contento di questa azienda labbiocchi veramente fa dei prodotti eccezionali questo è sicuramente uno dei prodotti migliori che si possono usare per proteggere le piante dagli attacchi fungini e attacchi di zetti e perché oltre ad essere efficace è totalmente bio quindi non ha nessun problema a livello di utilizzo per quanto riguarda persone e animali infatti come vedete non c'è nessuna particolare avvertenza bene io ho finito questo video se vi è piaciuto condividetelo mettete un like e iscrivetevi al canale perché farò altri video su prodotti utili per migliorare la produzione e la qualità dei frutti nel vostro corpo ciao a tutti ciao ciao